Siamo con Pino Salamon, presidente di ADOC, ossia dell'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori. Vogliamo parlare di un interessantissimo progetto portato avanti, sposato da ADOC, finanziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Informo, assisto e tutelo. Questo è il nome del progetto, ossia informazione digitale sulla filiera alimentare, l'etichettatura degli alimenti e la corretta conservazione del cibo come strumento per prevenire gli sprechi e salvaguardare l'ambiente. E allora, presidente, parliamo di questa iniziativa, come è nata, come si sta sviluppando, proprio le finalità della stessa. Niente, sono due anni che con l'ente regione procediamo a fare questi progetti nei confronti del consumatore per permettergli di conoscere sempre più a fondo una materia come quella dell'alimentazione. Per alimentazione naturalmente riteniamo che si parli di prodotti, di prodotti trasformati o anche di somministrazione dei prodotti. Quindi di conseguenza facciamo in modo che si possa sempre stare nella condizione di poter rendere il consumatore più edotto in termini di alimentazione. Quest'anno abbiamo qualche difficoltà in effetti perché questo coronavirus Covid-19 ci ha messo nella condizione di non poter, diciamo così, organizzare iniziative con presenze fisiche e quindi di conseguenza cerchiamo anche attraverso i canali televisivi o attraverso i canali tecnologici di internet di fare in modo che si possa diffondere questa informazione e far sì che il messaggio giunga preciso alla testa dei consumatori. Ecco, Presidente, l'obiettivo è certamente dare al consumatore, creare nel consumatore una maggiore consapevolezza attraverso le conoscenze necessarie che lo orientino ad una migliore capacità di scelta e in questa la politica, tra virgolette, del consumatore che deve saper scegliere sulla base di informazioni che voi cercate, come dire, di infondere, di diffondere. Sì, è questo il nostro obiettivo perché evidentemente ci sono molte regole e molte normative che vanno rispettate sia da parte di coloro i quali devono produrre e quindi commercializzare il prodotto e sia da parte di coloro i quali devono acquistare che a loro volta devono sapere che ci sono determinate regole o norme che vanno rispettate per poter essere garantiti nell'acquisto finale del prodotto. Quindi di conseguenza anche su questo progetto che stiamo realizzando in forma assisto-tutelo e che procederemo qui fra poco a esporre questi elementi di conoscenza vedremo un attimino come si può essere capaci di apprendere di più e quindi di essere all'altezza e più consapevoli del compito. Ci stiamo occupando del progetto che ADOC sta portando avanti, ADOC Puglia in forma assisto-tutelo, ossia informazione digitale sulla filiera alimentare, sulla etichettatura degli alimenti e quant'altro. e ora ne parliamo con la dottoressa Silvia Bitritto che è dottore agronomo. Cercheremo di inquadrare la figura, di tipizzare la figura del consumatore nel 2020. Quali sono le sue caratteristiche, le sue attitudini, le sue richieste? Per poter affiancare il consumatore e informarlo al meglio su quelle che sono le scelte più corrette da fare noi abbiamo dovuto un po' profilarlo. Quindi chi è il consumatore del 2020? È un consumatore informatissimo, forse troppo informato. A volte tende a reperire anche le sue informazioni tramite canali poco attendibili come ad esempio il social network, vuole un prodotto conveniente ma che sia anche genuino, cose che di solito non vanno di pari passo, vuole sapere tutto del cibo che acquista però di fatto non sa leggere un'etichetta, è molto interessato soprattutto alle calorie di un alimento e si fa allettare facilmente dalle offerte 3x2 per esempio. Un po' ingannevoli talvolta. Infatti molto spesso questi alimenti sono a quasi termine della loro vita, quindi la loro shelf life come si chiama in gergo è appunto quasi terminata, per quello appunto le offerte 3x2 ci devono sempre mettere un po' in allarme. L'anno scorso abbiamo visto questo tema col progetto Spreco che abbiamo fatto e abbiamo cercato un po' di informare circa le offerte speciali dei negozi, dei supermercati e appunto invitare il consumatore non solo a non buttarsi subito su queste offerte ma anche a pensare a farsi una lista della spesa, una lista di cosa mangiare, un menù settimanale per appunto evitare di comprare più del necessario. Poi soprattutto con la pandemia che c'è stata, questo consumatore compra sempre di più online o con le app quindi molto spesso la spesa la fanno gli operatori dei supermercati quindi lui non si reca più di persona a cercare... Da solo indicazioni generiche. Esatto, soltanto indicazioni generiche, non si sceglie il prodotto, non lo guarda e soprattutto non legge l'etichetta. Un po' ingenuo. Sì, un consumatore un po' ingenuo, per questo noi lo vogliamo guidare al meglio. E' attento all'ambiente, sappiamo che adesso ci sono tantissimi movimenti per l'ambiente, a favore dell'ambiente però di contro la vita frenetica degli ultimi decenni ci porta anche a consumare molti cibi pronti. Cibi pronti vuol dire avere tanto packaging e tanta plastica quindi molto spesso appunto la sostenibilità non va di pari passo con la praticità. Poi soprattutto è bombardato di offerte e di pubblicità, come abbiamo detto prima quasi non sa più cosa scegliere. Molte volte, lo vedevo proprio nel mio condominio, le varie aziende, i vari supermercati, i permercati e quant'altro ti lasciano proprio nel portone, magari sulla cassetta della posta proprio questi malloppi di volantini per cui magari non è neanche facile saper scegliere o magari l'occhio, come dire, è strabuzza, è deviato tra una offerta e l'altra e magari il consumatore può apparire un po' in tilt, disorientato. Per questo è sempre bene pensare, informarsi prima di effettuare un acquisto e poi come ultimo punto abbiamo visto anche che non sempre consuma frutta e verdura di stagione sempre per la questione che magari i prodotti importati dall'estero hanno una produzione effettuata magari non in maniera non biologica quindi o con prodotti che magari qui in Italia non vengono nemmeno utilizzati e quindi diciamo non prende frutta e verdura di stagione tende a preferire magari le fragole in inverno per esempio e quindi noi vogliamo evitare appunto che succeda questo facendo una buona informazione al consumatore noi possiamo anche influenzare il mercato in maniera positiva Ci stiamo occupando del progetto di Ad hoc Puglia Informo, assisto, tutelo ovvero informazione digitale sulla filiera alimentare sulla etichettatura degli alimenti e quant'altro e in queste puntate stiamo un po' cercando di illustrare il progetto ma vedendo anche una serie di elementi abbiamo visto le caratteristiche del consumatore, le sue attitudini lo stiamo facendo con la dottoressa Silvia Bitrito che è dottore agronomo quest'oggi parleremo della filiera ossia l'insieme di tutte le attività che portano dalla materia prima al prodotto finito nelle mani del consumatore quindi questo grosso argomento questa realtà la filiera e quindi un po' in tutte le sue caratteristiche in tutte le sue diramazioni i passaggi, il controllo, le normative e quant'altro Sì, appunto la filiera ormai è al centro di ogni discussione perché appunto abbiamo detto che il consumatore è ormai molto attento a cosa porta in tavola in cosa consiste la filiera? Appunto l'insieme di tutte le tecnologie e le risorse che vengono utilizzate e quindi gli input che vengono utilizzati in un'azienda per creare il prodotto finito ma non solo per crearlo anche per trasportarlo e distribuirlo la filiera quindi può essere definita corta o lunga a seconda dei passaggi che interrocorrono tra la materia prima appunto il prodotto finito più passaggi ci sono più la filiera sarà lunga va da sé che una filiera corta ovviamente avrà meno passaggi avrà meno trasporto non ci saranno spese particolari può essere conveniente sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico perché appunto non vengono impiegati mezzi pesanti non viene impiegata mano d'opera per il trasporto e tutto insomma diventa tutto a tutela anche delle piccole realtà locali Passiamo sempre parlando di filiera appunto ai passaggi come vedete noi ci stiamo avvalendo di alcune slide che sono state appunto realizzate prodotte da ADOC proprio per meglio come dire dare un'immagine grafica degli argomenti che stiamo affrontando dicevamo dottoressa Bitritto parliamo di questi passaggi allora i passaggi ovviamente sono la produzione della materia prima la trasformazione e la lavorazione della stessa che non sempre avviene in azienda quindi a volte viene trasportata e portata in altri centri di trasformazione poi c'è l'imbottigliamento packaging nel caso dei cibi perché appunto la filiera non è solo alimentare tutti i prodotti hanno una loro filiera poi la ricerca tecnico tecnico scientifica che tende ovviamente a migliorare poi la materia prima perché tutti i prodotti si evolvono la fase logistica quindi trasportare il prodotto in tutti i centri di distribuzione e poi la fase di commercializzazione quindi tutte le varie pubblicità e ovviamente per massimizzare la sua diffusione e il suo valore è importante però sono importanti anche i controlli appunto della filiera parliamone allora per quanto riguarda la filiera alimentare appunto abbiamo due tipi di normative c'è la normativa cogente ovvero quella obbligatoria che tutte le aziende devono avere per poter produrre appunto alimenti e poi abbiamo quella volontaria che appunto è facoltativa però rende l'azienda più competitiva sul mercato anche estero non solo locale quindi per quanto riguarda la normativa cogente noi abbiamo la tracciabilità e la rintracciabilità che significa tracciabilità che tutti i passaggi che vengono effettuati nella produzione devono essere registrati e schedati quindi è possibile poi rintracciare al contrario il prodotto infatti noi vediamo per esempio sugli alimenti c'è il numero di lotto il numero di lotto serve appunto a recuperare l'alimento nel momento in cui c'è un problema questo non solo consente una maggiore sicurezza per il consumatore ma consente anche all'azienda di non rimetterci l'immagine e di poter recuperare soltanto il prodotto danneggiato quindi sia il ritiro o il richiamo nel caso del ritiro il prodotto non è ancora nelle tavole del consumatore significa che il prodotto è ancora nella grande distribuzione ma non sugli scaffali mentre nel richiamo è un po' più diciamo grave perché significa che il prodotto è già stato potenzialmente venduto ecco parliamo della normativa cogente HCCP allora l'HCCP lo sentiamo sempre nominare è l'acronimo di Hazard Analysis and Critical Control Point traduciamolo è praticamente l'analisi dei punti critici di controllo i punti critici di controllo sono quei punti della produzione nei quali è necessario effettuare appunto dei controlli per evitare che la materia prima subisca dei danni o vi siano appunto pericoli rischi di tipo fisico chimico o biologico quindi che ci siano contaminazioni biologiche che ci sia non lo so vengano contaminate da sostanze chimiche per esempio dei macchinari o fisiche per esempio viti bulloni può succedere e quindi questo è l'autocontrollo e ovviamente in questo autocontrollo è anche previsto che ci sia un manuale aziendale nel quale vengono riportati tutti i dati dell'azienda i lavoratori i locali le attrezzature gli strumenti tutti appunto le tarature degli strumenti che vengono utilizzati nonché la descrizione e la destinazione dei prodotti ecco stiamo parlando di filiera vogliamo parlare anche di alcuni aspetti aspetti ambientali e socio-culturali della filiera corta allora abbiamo sempre sentito parlare di chilometro zero è un termine che non si usa solo in ambito automobilista molto diffuso sì esatto è un termine che si usa per indicare un prodotto che è nato e poi è stato consumato esattamente nel territorio appunto in cui è stato prodotto quindi che non ha fatto molti chilometri quindi non è un prodotto impattante perché non è stato trasportato ovviamente questo aiuta anche a eliminare il rischio di sprecare quindi anche per quanto riguarda il packaging questo prodotto non deve affrontare grandi distanze quindi può essere un packaging più semplice e poi soprattutto consente la maggiore diffusione di prodotti biologici e quindi più genuini quali sono i vantaggi della filiera corta? i vantaggi della filiera corta oltre alla questione ambientale ovviamente c'è anche il fatto che venga conosciuta la realtà rurale del territorio adesso le piccole aziende sono sempre un po' in difficoltà di fronte alle grandi aziende o alle multinazionali quindi in questo caso consentirebbe ovviamente al consumatore non solo di avere anche una maggiore fiducia in quello che consuma ma anche di conoscere appunto chi lo produce proseguono le nostre puntate che si stanno occupando del progetto informo assisto tutelo portato avanti da ad hoc puglia finanziato dal ministero per lo sviluppo economico un progetto appunto come detto in altre occasioni relativo alla informazione digitale sulla filiera alimentare sull'etichettatura degli alimenti e quant'altro ci sta facendo da guida in questo percorso conoscitivo a beneficio dell'utenza e attraverso lo strumento televisivo e attraverso lo strumento del web la dottoressa Silvia Bitritto che ricordiamolo è dottore agronomo quindi abbiamo con lei analizzato un po' la materia abbiamo considerato nelle precedenti puntate la individuazione la tipologia la tipizzazione del consumatore del 2020 abbiamo considerato la filiera la filiera corta la filiera lunga insomma in tutte le sue sfaccettature e diramazioni quest'oggi ci occupiamo dei marchi comunitari si allora appunto i marchi comunitari sono dei marchi che vengono nominati molto spesso ma a volte non è ben chiaro in cosa consistono sono appunto dei marchi che vengono apposti su dei particolari prodotti che hanno delle caratteristiche ben definite ovviamente questo è un modo anche per proteggere i prodotti dalle frodi dalle frodi che avvengono purtroppo soprattutto all'estero quando alcuni soggetti cercano di replicare dei prodotti tipici per esempio della nostra nazione che è appunto l'Italia e che sono un po' fiorell'occhiello della nostra nazione ecco dottoressa parliamo di queste attestazioni e qualifiche inerenti ai marchi perché molto spesso vediamo prodotti da agricoltura biologica DOP IGP ma cerchiamo di capirne di più allora ovviamente i prodotti di agricoltura biologica sono tutti quei prodotti che seguono un disciplinare di produzione di tipo biologico quindi non convenzionale per convenzionale noi intendiamo tutti i prodotti normali che troviamo normalmente in commercio quando sono biologici vuol dire che non sono convenzionali per quanto riguarda appunto l'agricoltura biologica sappiamo che c'è un rigido disciplinare di produzione che non prevede moltissimi prodotti chimici che solitamente vengono utilizzati in agricoltura prevede delle lavorazioni minime del terreno quindi è un metodo di di coltura che aiuta anche diciamo un po' l'ecosistema quindi un intervento minimo dell'uomo questo marchio ci aiuta a identificare appunto quelli che sono i prodotti da agricoltura biologica hanno sempre un prezzo un po' più alto perché ovviamente questo lo notiamo magari ecco il consumatore lo dico anche così da ignorante in materia tra virgolette penso per esempio anche non so le uova per esempio allora magari il prezzo che ovviamente è un po' più alto magari induce così inconsapevolmente ingenuamente l'acquirente il consumatore a dire beh vabbè questo costa di meno e lo compro invece no perché magari è più importante puntare su un prodotto di qualità come quello biologico sicuramente un prodotto biologico appunto non avvalendosi l'azienda di molti prodotti chimici di alcuni sistemi di allevamento che consentono una produzione maggiore in questo caso quindi abbiamo una produzione minore ovviamente c'è meno prodotto e quindi ovviamente il costo deve essere maggiore perché è importante perché nel momento in cui noi andiamo a preferire sempre di più prodotti biologici prodotti certificati noi influenziamo il mercato in maniera positiva quindi iniziamo a creare un cambiamento anche noi nella produzione stessa parliamo parliamo dopo i prodotti biologici dei prodotti DOP ossia quei prodotti con denominazione di origine protetta allora i prodotti DOP sono dei prodotti che hanno un disciplinore di produzione veramente molto rigido quindi tutte le fasi della lavorazione nonché la materia prima devono essere prodotti all'interno di uno specifico territorio ad esempio un prodotto DOP molto famoso può essere la mozzarella di bufala campana quindi si bisogna rispettare un disciplinare di produzione molto rigido e soltanto alcune aziende possono quindi poi vantare un prodotto DOP poi abbiamo per esempio il prodotto IGP indicazione geografica protetta anche questo forse proprio tipizza come dire lega il prodotto a quell'area di produzione esatto purtroppo graficamente è un po' simile alla DOP solo che questo è blu e invece quello risulta con un marchietto rosso questo qui come unica differenza è un po' meno rigido ma solo perché almeno una lavorazione deve avvenire nel territorio di denominazione appunto dell'alimento però il resto può provenire anche dall'esterno quindi anche da altri paesi seguiamo la nostra analisi con i prodotti STG specialità tradizionale garantita anche qui vediamo sono sempre ricorrenti di queste tipizzazioni questo legame forte ai territori alle tradizioni alla genuinità quindi questo rapporto diretto con il territorio neanche come dire una garanzia si certo infatti per esempio per specialità tradizionale garantita che è appunto l'STG un prodotto famosissimo è appunto la pizza la pizza viene fatta ovunque quindi non è necessariamente da produrre nello stesso luogo di provenienza però l'importante è che abbia delle caratteristiche fisiche e chimiche proprio tipiche di quella preparazione quindi può essere chiamata tale solo se ha quelle caratteristiche parlando di questi prodotti vari beh ora tocchiamo un tema carissimo a noi pugliesi come devo dire a molte parti d'Italia però sappiamo il valore dei vini della nostra Puglia e quindi i vini ora parliamo in genere dei vini italiani DOC IGT DOC IG per quanto riguarda invece i marchi appunto per i vini quindi DOC IGT e DOC G abbiamo denominazione di origine controllata indicazione geografica tipica e poi denominazione di origine controllata e garantita per i primi due diciamo sono un po' i corrispettivi della DOC e dell'IGT quindi DOC deve essere prodotto tutto nello stesso territorio l'IGT almeno l'85% delle uve di quel vino deve provenire da quello specifico territorio di cui porta il nome mentre la DOC G è quindi la denominazione di origine controllata e garantita hanno addirittura delle bottiglie con delle fascette di stato quindi rilasciate dalle camere di commercio quindi è una certificazione molto difficile anche da ottenere esistono vari tipi di disciplinari parliamo di questi disciplinari e di chi ne garantisce il rispetto ovviamente per poter vantare un prodotto DOC IGP STG ma più DOC IGP ovviamente dobbiamo attenerci non solo al disciplinare ma anche a tutti i controlli che poi vengono effettuati da enti esterni quindi la richiesta di registrazione va depositata sia alla regione che al ministero e solo dopo si può appunto iniziare a produrre con quel con quel marchio quindi sono dei prodotti assolutamente garantiti e possono essere un validissimo strumento anche per evitare le frodi bene termina qui la nostra chiacchierata con la dottoressa Bitrito vorrei congedarci con l'ultima slide che così vuol omaggiare come doveroso che sia appunto l'ADOC c'è un bellissimo logo con un cuore con il giallo rosso dell'ADOC we love ADOC ADOC si batte con te e questo proprio lo spirito che ha informato e ha formato e informato il progetto regionale informo assisto e tutelo della regione Puglia ricordiamolo fidanziato dal MISE Ministero per lo Sviluppo Economico